Il mio padre mi chiamò e mi disse guarda, metti un momento di studiare perché mi sa che mi vedi a dare una mano mi piaceva fare anche a me il grande, cioè imparare qualcosa era una sfida con quelli che stavano lì cioè ad un bel momento lì si cercava di produrre al massimo con la massima velocità io oggi penso che so ancora fare qualcosa mi ricordo ancora perché quella manualità è una cosa che non si dimentica